amici di football is my life ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi video sul fantacalcio come è andata il fantacalcio come è andata la giornata del fantacalcio della mitica via tasso football club allora ragazzi io chiedevo un po di dignità per l'ultima partita un po di dignità invece no no abbiamo perso contro una squadra ok più avanti di noi classifica ma contro una squadra che non ha neanche segnato ha vinto per un assist e per un clean sheet e tra l'altro avuto anche più ammunizioni che bones una roba veramente vergognosa via tasso football club real bandirola 0 a 1 una partita di merda come vi ho appena detto andando a vedere un po il punteggio delle due squadre iniziamo subito dal mio avversario dal real bandirola che ha totalizzato 68 punti donna room 7 più 1 per il clean sheet smalling 5 mezzo meno mezzo punto per il cartellino giallo jim city 5 anche lui ammonito quindi meno mezzo punto bremer 6 e mezzo gomez e derun entrambi 5 e mezzo strefezza 6 simone verdi 7 mezzo più 1 per l'assist leao 7 ciccio caputo 5 e mezzo lautaro martinez 6 il tutto per un totale di 68 punti non mi ricordo se l'avevo detto passando poi invece alla via tasso football club abbiamo totalizzato 62 punti e mezzo gollini 4 e mezzo meno uno per il gol subito bonifazi 5 e mezzo mi è entrato bonifazi perché non muldur entrato all'ottantacinquesimo caceres che era la prima riserva in panchina non ha giocato quindi per forza di cose mi è entrato lui che era la seconda riserva go sense 6 castagna 6 lazari 5 e mezzo amrabat 4 e mezzo perché ha deciso di fare il fighettino e farsi buttare fuori tra ore 6 e mezzo ansaldi 5 e mezzo meno mezzo punto per il cartellino giallo velotti 5 e mezzo sotto il 6 e mezzo non ha segnato però comunque ha avuto un buon impatto nella partita della fiorentina contro la spalla ibraimovic 6 e mezzo frutto di un rigore segnato e di un rigore sbagliato e di un gol segnato nel secondo tempo se solo non avesse sbagliato quel fottuto rigore di merda avrei pareggiato la partita sarebbe stata una conclusione quasi decente alla stagione guardando poi un po il punteggio delle altre squadre l'asd sognatori perde 2 a 1 contro il real san mornico ma si laurea comunque campione del fantacalcio l'asd sognatori perde 2 a 1 contro il real san mornico ma si laurea comunque campione del fantacalcio secondo posto dietro all'asd sognatori troviamo il big tetap big che ha perso anche in questa giornata 2 a 0 contro il team young rugge e infine poi vittoria della c dolattico squadra di mio fratello 1 a 0 contro il bel figa con questo successo la c dolattico si garantisce il quinto posto in classifica a pari punti contro il team young rugge ma quinto posto in virtù dei fantapunti va bene ragazzi questo è stato un po il riassunto della mia ultima giornata del fantacalcio fatemi sapere cosa ne pensate ditemi se avete giocato al fantacalcio qual era la vostra squadra e come siete andati io come al solito mi invito a scrivere canale youtube a seguirmi su instagram a lasciare un commento a lasciar mi piace a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero questo che vedete in mano è il foglio della stagione della via tasso football club iniziando a riempirlo di profumo per poi incendiarlo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi